Magari c'è il modoppione Il modoppione è Bernadini Chi è? Se si fa male andrà a Bernadini Entra andrà a Bernadini Cosa si fa? E' la sua situazione Dico solo davanti a me di camera Poi ci viene peggio lì Oh! C'è una squadra! Di Nato, la Tassi Bocci! C'è una squadra Bocci! Non c'è una squadra Buonasera Io so che cazzo guardi